L'Istituto Superiore Tecnico e Professionale Arrigo Serpieri, sede di Casteldisangro, guidato dal dirigente scolastico Francesco Di Girolamo, entra nella tenuta di Castiglione a Villascontrone per collaborare alla conduzione del vigneto di alta quota curando tutti gli aspetti, dall'impianto alla vendemmia, della produzione di pecorino e tintilia. Un percorso didattico progettato ed organizzato grazie alla stretta sinergia tra scuola secondaria ed imprenditoria locale per consentire ai giovani studenti di entrare nelle aziende produttive e mettere così in pratica le conoscenze apprese tra i banchi di scuola. Siamo arrivati qui oggi a Villascontrone per fare una formazione dopo aver fatto prima la parte teorica e adesso mettiamo in pratica quello che abbiamo imparato. La situazione scolastica è cambiata rispetto al passato perché si credeva che le persone che si iscrivevano all'Agrario, all'Istituto Serpieri, erano meno preparate rispetto a chi ad esempio a un liceo scientifico o ad un classico. Invece, come possiamo vedere, noi dal terzo anno iniziamo a lavorare nel campo e a mettere in pratica le nostre preparazioni. Come prima cosa abbiamo impiantato un vigneto e nel corso dell'anno ci siamo presi cura di questo vigneto. Come prima cosa, come oggi, abbiamo fatto la potatura e dopo, verso il mese di settembre, ottobre, iniziamo a venire per fare la vendemmia e aiutiamo l'azienda. Una scuola diversa, rinnovata ed innovativa, pronta ad inserire nel mondo del lavoro i neodiplomati con la qualifica di tecnico-agrotecnico e che ha saputo adeguare l'offerta formativa alle esigenze di competenze richieste dal mercato del lavoro, mettendo in connessione gli obiettivi educativi, i bisogni del territorio e le necessità professionali espresse dal mondo produttivo. Sì, noi proprio già anche nel corso di questi cinque anni di scuola siamo molto preparati e comunque iniziamo a affrontare man mano il processo che appunto ci porterà poi al nostro futuro nell'ambito lavorativo. Infatti noi già una volta finito e fatto l'esame del quinto anno noi abbiamo già un diploma da agrotecnici e quindi abbiamo la possibilità di iscriverci al collegio di agrotecnici e quindi andare a fare già controlli nelle aziende sia agroalimentari che agrarie e quindi già questo ci porta proprio ad avere un vero e proprio indirizzo. Proprio per questo noi diciamo che in questa scuola adoperiamo proprio il fatto dell'unione tra teorico e pratico, quindi noi partiamo dalla teoria e la uniamo proprio quando noi andiamo sul campo a metterci del nostro, quindi lo facciamo proprio con le nostre mani, quindi quest'unione ci porta già proprio appunto al nostro futuro quando saremo in un ambito lavorativo, anche col rapporto che ci sarà poi con il nostro cliente o comunque con il proprietario delle varie aziende. Proprio per questo noi appunto facciamo queste uscite didattiche e quindi questa proprio una vera e propria formalizzazione del nostro percorso di studi proprio per appunto arrivare in ambito lavorativo e appunto essere pronti ad affrontare questa grande impresa che ci aspetterà. Oggi siamo entrati tra le fila di questi banchi virtuali calcando la nuda terra e maneggiando le cesoie per la potatura ed abbiamo riscontrato una professionalità diffusa tra gli studenti. I giovani infatti hanno compreso, forse ancora prima dei loro genitori, che la scuola agraria è cambiata radicalmente. Noi ci troviamo a Villa Scontrone a Tenuta di Castiglione, stiamo procedendo ad una potatura prima fatta teoricamente all'istituto Serpieri e poi messa in atto praticamente in campo. La potatura è molto importante perché diamo modo alla pianta di mandare la giusta linfa alle gemme e da queste gemme poi si è questo capo a frutto per costruire questo traccio a frutto per poi a fine anno si coglierà l'uva da questo traccio a frutto. Noi seguiamo la vigna fino alla vendemmia che si aspetta con ansia fino a settembre-ottobre dall'agricoltore. Noi seguiamo questo percorso fino alla raccolta dell'uva e questo esplode i nostri odori e sapori del primo mosto colto sulla nostra vite. Dopo il mosto uscirà il vino novello perché durante questo processo ci sono dei dovuti lavori, sacrifici e comunque l'agricoltore è molto entusiasta del suo lavoro.